Le segretarie del sesto ricordano una fiction di circa dieci anni fa che si chiamava Commesse, ma questa volta lo spirito è leggermente diverso. Dunque, intanto rispetto a Commesse, oltre ad avere la presenza dell'autrice che è Laura Toscano, che ha scritto Entrambe Copioni, c'è la presenza di Franco Castellano che ripresenta un personaggio, che è Romeo, che era presente dieci anni fa in Commesse. Lui era un commesso, nel frattempo sono passati gli anni e lui è invecchiato, è passato attraverso la crisi economica e lavorativa di questi ultimi anni e ce lo ritroviamo su questa storia che cerca disperatamente lavoro in questo ufficio di assicurazioni. In questo ufficio di assicurazioni si sta mettendo in atto un piano di successione del direttore generale che governa il centro-sud di questo grande ufficio di assicurazioni e tutti gli altri dirigenti stanno cercando di prendere il suo posto. Ma questa battaglia intestina viene fatta combattere attivamente invece dalle segretarie. E in questo probabilmente c'è la differenza con Commesse, perché mentre nel film di dieci anni fa il rapporto tra le protagoniste era comunque di solidarietà e di amicizia, in questo caso la solidarietà ha lasciato il posto alla voglia di arrivare, all'intrigo, a una sorta di guerra fratricida tra di loro. E in questo senso è un film molto meno, è un po' più amaro, è un po' più graffiante rispetto a Commesse, perché assistiamo a un mutamento dei rapporti fra donne. C'entra la crisi, il fatto, la minaccia della crisi, rispetto a dieci anni fa, ecco, che si stava meglio, e quindi queste commesse, tra loro c'è una sorta di fratellanza, di sorellanza. Ma in realtà la crisi vale un po' per tutti, vale per gli uomini e per le donne, vale un po' per tutti i settori e di buono la crisi ha che non guardi in faccia nessuno. In realtà forse quello che c'entra di più è che sono cambiati i rapporti tra uomo e donna. si è alzato il livello interventista della donna, anche il posto che ha nel mondo del lavoro per le donne, insomma, adesso è maggiore, è superiore, ci sono dei dirigenti donna che prima non c'erano, c'è un po', anche se è un po' invertito il ruolo rispetto alla famiglia, nascono meno bambini, insomma, c'è una trasformazione più che altro del costume e dello strato sociale del nostro paese. e quindi probabilmente è più da ricercare in queste motivazioni la mascolinizzazione delle donne, soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi quattro segretarie, ognuna di loro cerca di far avanzare il proprio capo. E chi sono queste segretarie? Da chi sono interpretate e chi sono i caratteri? Sì, allora, Tosca D'Aquino interpreta Costanza, che è la segretaria del capo assoluto, quello che deve andarsene, è una donna, quella che occupa il posto di potere più importante, e a un certo punto sembra che sia lei a dover prendere il posto del direttore generale, e però è legata a quest'uomo da un rapporto d'amore di vent'anni, dove ha fatto l'amante per vent'anni. Cioè, una storia molto curiosa, perché mentre tutti quelli che lavorano aspettano altro che tornare a casa e trovare i propri affetti, lei è esattamente il contrario, non vedeva l'ora di andare a lavorare per stare con l'uomo che ama. Lei è l'amante del grande capo, quindi. Esattamente. Mentre lui ha una moglie e una famiglia che va avanti per conto proprio. È un classico. Esatto, quindi è una donna con delle fragilità, ma che si sono trasformate in durezze, in una scorza durissima che la protegge da tutte e che la fa diventare molto dura, anche esigente nel lavoro. Poi abbiamo il personaggio di Giovanna, che invece è interpretato da Michela Ramazzotti, e che è una precaria, una ragazza come tante che è stata assunta a tempo determinato, è un'esperta di computer e si innamora perdutamente di uno di questi dirigenti che la sfrutterà per ottenere dei risultati personali. è una ragazza fragile, molto buffa, peraltro, molto comica, e che esprime la sua comicità nell'essere così fragile e così anche candida e ingenua. Poi c'è Antonia Di Scova, che è un'altra molto volitiva, una donna che subisce torti anche lei dal marito e che trasforma questa sua rabbia in un'energia anche un po' disonesta nel lavoro. È la più dura di tutti, però è una durezza che nasconde anche lei, una fragilità, ma è come se fosse una pentola che sta per esplodere, una pentola di compressa che sta per esplodere e poi alla fine esploderà. E poi c'è Agnese, che è interpretato da Claudia Gerini, che è una donna molto incasinata, cioè ha tre figli, una madre, un cane, un marito disoccupato, tutti che vivono tutti nello stesso appartamento. È l'unica a mantenere la famiglia, perché il marito non lavora più da un po' di tempo, è alla ricerca di un lavoro quest'uomo, ma è lei che mantiene tutti e inizia la sua giornata correndo, 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 è sempre in ritardo, sempre alla ricerca di colmare i buchi della sua professione, perché il suo capo le chiede sempre qualche cosa e lei non ce la fa mai, non ce la fa mai, è sempre in ritardo di andare a prendere i bambini a scuola perché il marito sta cercando lavoro e allora non può andare, la mamma si lamenta, la colf con gli ultimi soldi che hanno, che riescono a pagarsi, li molla, succede di tutto a questa donna, dalla sua borsa, un po' Mary Poppins che le escono, cose di tutti i tipi, fazzolettini per i bambini, giocatoli, merendine, non ce la fa più, a un certo punto anche lei esplode completamente perché si sente minacciato il suo posto di lavoro, si sente minacciata in casa dal marito che ormai non si occupa più di niente, si lascia andare, passa la vita in tuta della ginnastica, non riesce a trovare una sua collocazione, in questo forse è quello che dicevamo prima, le donne che sono quelle che portano i soldi a casa, prima non succedeva, adesso invece è più frequente, io ho un sacco di persone che conoscono gli amici dove il personaggio maschile della coppia si sente in inferiorità perché o non porta a casa soldi e entra la donna, sì o ne porta meno e questo crea frizione, problemi, eccetera. Insomma, tutto questo è condito dalla salsa della commedia. isra e